Perché le persone sono così impaurite di accettare un maestro spirituale e di abbandonarsi? Anche se hanno veramente bisogno, sanno capire, capiscono, la necessità della vita spirituale. In realtà la cosa è questa, questo abbandono c'è già prima. Dove? Nella mia vita materiale. Quindi lentamente il cilindro aumenta il per cento. Io inizio a sentire. Prima io ero 100% cilindro nei miei sensi e nel corpo e per il mio amico. 100%. Il corpo. Il 10% mi abbandonavo al mio maestro spirituale, 90% mi abbandonavo qui. e poi piano piano incomincio, 10% mi abbandono al mio maestro spirituale, 90% al mondo materiale, ai sensi e al corpo. Quindi questa percentuale, quando si aumenta il mio amico, si aumenta più intensamente, deve essere più venuto. Quindi questa percentuale, piano piano si equilibria, passa da una parte all'altra. Quindi di conseguenza anche la misericordia, secondo te l'abbandono aumenterà o meno. Senza meno. Questo è il punto. Questo è il punto. Quando inizio a sentire alcuna misericordia speciale, si aumenta. Se non, si aumenta, si aumenta. Si aumenta. Si aumenta. Si aumenta. Non posso lasciare il mio amico. Il mio amico. Il mio amico. Io già pratico per questo. Non posso abbandonarmi di meno di quanto mi sono già abbandonato. se inizierà a sentire la misericordia, allora la pressa verso il Guru incominciare ad incrementarsi. And to realize this, we also don't want to chant. If we say to remember this name, do this, you will increase, you will increase in your spiritual identity, you will increase. I have no interest on that. I have no taste for that. Why not taste? Oh, I'm sorry. Full. Yes, sorry. No, no. You know what? Full. Full. Yeah. So I have... Why not interest? Because I have interest in different subjects. And no taste is there because I have taste in this. So how can I increase the taste? You have to judge, you see? You see? You see? Yes? Ma c'è un libro che si chiama Dalla paura alla relazione e di Jean Javier mi sembra edizioni pauriche. Isma là un libro... I have a book, friendship... From Fear to Relation. Fear... Fear? There's this book. The title is From Fear to Relation. Yeah. That's it? So, it's a matter of faith also, no? So it's also a matter of faith? Sì, abbiamo paura di stare a una relazione perché dobbiamo vivere, Sridhar Maharaj ha detto you are dying you have to die to leave, yeah, die you are dying you have to leave this, C'è qualcosa da lasciare per incrementare, dobbiamo morire per vivere. Non so, living fear, I'm fearful to live this, to live this religion. So nice, you understand, so nice.